Buon pomeriggio a tutti ragazzi, allora il mercato è giù tremendamente, tremendamente, proprio veramente brutto, rosso, 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 rosso. Siamo ancora in quel momento dell'anno in cui ovviamente i sentimenti peggiori che sono dentro l'essere umano vengono fuori, la paura, la depressione, essere presi male, tutte queste cose qui. Però ragazzi voglio ricordarvi una cosa, ci siamo già passati, ci siamo già passati parecchie volte in live qui in questo channel e per chi segue anche il discord, ci siamo passati almeno questa è la terza estate che facciamo insieme e quindi non è nuovo per nessuno questo sentimento, questo momento. Bitcoin è vicino ai 54, 53k, molto probabilmente potrebbe andare a toccare i 48k, ieri ho fatto un video, ho spiegato alcune cose che stanno succedendo, il governo tedesco continua a vendere, ha spostato altri 3.000 Bitcoin su exchange, ovviamente questo continua a mettere pressione sui mercati soprattutto perché i volumi sono bassi, se lo facessero in un momento in cui i volumi sono un po' più alti sarebbe diverso, ma i volumi sono veramente bassi e quindi ovviamente questo fa una pressione di vendita pazzesca. Ma non solo quello, comunque siamo in un momento bearish, abbiamo notizie anche non troppo positive per quanto riguarda Matt Gox che sta distribuendo anche quei miliardi di Bitcoin che potrebbero andare sul mercato, però la cosa importante ragazzi è rimanere focalizzati sull'obiettivo finale, bisogna avere un obiettivo quando si entra su questo mercato, questa è una cosa che ho capito diciamo negli anni, quindi ci ho messo un po' a capirla e quello che sto cercando di fare su questo canale è trasmetterla a voi e farvi capire io come ho affrontato momenti del genere. Prima di tutto bisogna avere anche un goal nella vita, io per esempio ho un goal, sono al 20% del mio obiettivo a livello finanziario queste cose, quindi sono ancora molto lontano, anche se semplicemente essere al 20% mi ha permesso di essere per esempio qui come vedete al sole, lontano dallo stress dall'ufficio, potrei essere all'ufficio che mi suda il culo in questo momento o essere ancora a Londra sotto stress, invece sono qui, oggi stamattina sono andato al mare, mi sono fatto un bagno, il mercato era bearish, ho spento, ho fatto un paio di analisi, ho visto che ancora alcuni dei miei punti che mi interessavano non erano stati toccati, ho rispinto di nuovo, sono andato a fare un bagno, oggi c'è una chiamata, si lavora oggi pomeriggio, più tardi si esce, questa è la mia vita in questo momento, questo grazie al 20% che sono riuscito a raggiungere, che solamente nel 2019 non avevo per esempio, quindi il mondo delle cripto mi ha permesso di arrivare a un livello nella mia vita di comfort per continuare poi il mio goal, non di comfort per fermarmi, ma di comfort per concentrarmi sul mio goal, molti di voi sono in un momento simile o sono ancora molto indietro o ci stanno arrivando o vogliono cominciare, ma ragazzi quello che vi dico è, l'obiettivo bisogna sempre averlo, io c'ho un goal, il mio goal potrebbe volerci altri 5-6 anni, oltre a quello di far crescere ovviamente la community, lanciare più servizi, far crescere questo canale, ma è anche un goal finanziario mio e ovviamente non ci arriverò se ogni volta che c'è un momento del genere esco dal mercato e mi spavento, io non ho una scelta, mi sono messo in una posizione di non avere più scelta, in senso c'è gente di voi che ha scelta perché c'è un lavoro, anche io avevo un lavoro prima, però c'è un lavoro, ha le cose, dice no sto mondo non mi piace, sto mondo è, c'è una scelta e certe volte quando si ha una scelta si fa sempre la, di solitamente si fa sempre la scelta più sbagliata oppure comunque non si fa quel sacrificio in più, io mi sono messo in una posizione di non avere scelta, in senso io questo è quello che sto facendo ora, le mie uniche entrate sono proprio da questo mondo, prima avevo una resistenza alla perdita molto minore, ovviamente prima vedevo 100 dollari e magari quando ho cominciato all'inizio 100, 200, 500 dollari se li perdevo per me era già, adesso ti svegli una mattina, sei sotto di 10, 20k e dici ok si recupera, bisogna vedere come mediare, bisogna fare, quindi anche la tolleranza alla perdita aumentata nel tempo e come ho detto mi sono messo in una posizione di non poter più scegliere, nel senso comunque si potrei tornare e fare un lavoro quello che è, ma in questo momento mi è molto più difficile mollare che rimanere, mi è più facile rimanere anche perché conosco il gioco, conosco una strategia che funziona bene a lungo termine, so che ci sono dei momenti di volatilità che devo affrontare psicologicamente, mentalmente, quindi c'è una strategia per lavorare sulla mia mentalità, sulla mia psicologia, sulle regole, cose che non devo fare, so che non devo prendere posizioni grosse in leva, so che devo andare, devo prendere profitto quando il mercato va su, oggi qualcuno per esempio nel nostro Discord ha commentato che mi ha ringraziato per il fatto che c'è ancora un terzo in cash ed è rientrato a buoni livelli perché comunque ha preso profitto quando io stressavo, verso dicembre, novembre, gennaio, stressavo il fatto di prendere profitto almeno su quelle che stanno facendo bene, per esempio non so, non ho preso profitto su ADA per esempio, non ho preso profitto su Matic, non ho preso profitto su Algo, su alcune non ho preso profitto perché semplicemente non hanno performato e sono già va bene un 50% da lì, però siamo entrati a prezzi buoni, siamo più o meno un 30%, un 20% dalle entrate e ok. Altro ho preso profitto, quindi ho creato liquidità e ho ricominciato a comprare piano mettendo in conto l'estate, mettendo in conto che c'è un'estate che sta arrivando e l'estate ovviamente è bearish, come dico sempre c'è un detto che dice sell in May or walk away ed è stato il detto più azzeccato di sempre nel mondo degli stock e delle crypto, soprattutto delle crypto e quello che vi dico è, cercate di resistere in questi momenti, dovete avere una strategia, dovete avere un piano, dovete avere un po' di conoscenza del mercato e queste cose si sviluppano piano piano. Ci sono dei veterani dentro la nostra community premium che ormai sono dentro da quasi, questa è la terza strata che si fanno e molto di loro sono psicologicamente molto forti, l'ho notato, non dico che sono centinaia di persone, ma qualche decina di persone hanno una psicologia molto forte, sono posizionati molto bene, sono presi molto bene. Poi ci sono quelli che per esempio entrano solo nei pump, che in questi sono i loro peggiori momenti perché hanno comprato solo all time high, con la speranza che vada ancora più su e ovviamente non hanno una strategia, non hanno un money management, non hanno un risk management, non hanno l'allocazione giusta, non hanno un rimbilanciamento, non hanno una diversificazione dell'wallet e quindi mancando tutte queste cose si sentono un po' persi, ok? A queste persone dico, è successo a tutti, ci sono passato anch'io a entrare in gamba tesa, a farmi male, ci sono passati tutti i veterani a entrare in gamba tesa, sono fatti male, il 99.9% della gente che poi è entrata a far parte della nostra community premium è gente che è entrata dopo la fine del bull market 2021, che come sapete quasi tutti avevano perso soldi perché tutti sono entrati nel pump finale, a all time high che poi ha fatto meno 90-99% il mercato delle all's, meno 75% BTC, hanno perso soldi. E quindi molta di quella gente, parlo quasi più del 60-70% recuperato, è andata in profitto ed è riuscita a gestire a capitolo come si fa il gioco. Il mercato è un gioco e per giocare, come qualunque altro gioco, bisogna avere una strategia e bisogna sapere le regole del gioco. Quello che vi dico è, non mollate ragazzi perché questo è il futuro, il mercato delle crypto è solo 1.9 trilioni in totale, in totale, se andiamo a vedere qualunque tipo di asset class al mondo, qualunque tipo, il mercato dell'immobiliare, il mercato degli stock, l'oro, l'argento, materie prime, qualunque tipo di mercato vale trilioni, vale trilioni, parlo di 20, 30, 40 trilioni e non capita sempre che un nuovo asset class entri sul mercato e quindi noi stiamo assistendo a una cosa rara, chissà la prossima quale sarà, però le crypto sono un nuovo asset class che potrebbe valere, non so, 3, 4, 5 trilioni magari, no? nei prossimi 10 anni, quindi per esempio fare un altro 5x l'intero mercato di qua, quindi per esempio vedere anche bitcoin arrivare, fare un 2x da qui e mantenerlo nei prossimi 5 anni, vedere l'allcoin almeno mantenere il loro all time high, oppure essere comunque almeno a 5, 6, 7x da questi livelli, ovviamente bisogna saperle scegliere, perché ovviamente non tutti i progetti sopravvivono ragazzi, questa è una cosa importante da ricordare, sicuramente anche nel mio wallet ci sono progetti che penso che non performeranno bene, come hanno performato nel 2021, però almeno sono entrato a livelli che so che o vado leggermente in profitto o vado almeno un 2x in profitto e poi uscirò, cercherò progetti migliori. Detto questo, fine estate, verso agosto, settembre saranno momenti tra i peggiori, penso agosto sarà ancora un momento non troppo positivo, almeno luglio, comunque luglio siamo nel picco, tra luglio e agosto siamo nel picco del momento peggiore, potremmo vedere un ulteriore dam da qui, aggiuntivo, e poi cominciare a trovare un fondo, cominciare a trovare un fondo poi bisogna fare un'altra analisi e vedere se quel fondo veramente si sta formando, ovviamente le analisi che uso io sono molto semplici, vedere se ci sono divergenze su grossi time frame, vedere comunque una price action bullish, vedere comunque sul settimanale una price action che tiene bene sul giornaliero, un'inversione, un cambio di trend e bla bla bla, poi lo vedremo insieme ovviamente chi segue questo canale, faremo tutte queste cose insieme. Quello che vi dico è, il mercato delle cripto è solo 30% del tempo, 30% del tempo, per rimanente 70% o lateralizza o va giù, quindi avete solo un 30% di tempo per sfruttarlo, al meglio. E la mia strategia qual è? A parte comprare in questi momenti, che secondo me sono ottimi momenti per piazzarsi, per comprare ora e comprare quando fa un 2-3x, comunque a parte comprare ora, ma poi tenere dei cash da parte, perché i primi che pamperanno sono quelli che vi creeranno liquidità, quelli che vi creeranno liquidità dovete poi prendere quella liquidità e riusarla, perché sarà un momento liquido del mercato, magari dura due mesi, tre mesi, non si sa, per quei due o tre mesi in cui io solitamente non dormo, si lavora un sacco, in quei due o tre mesi si crea la ricchezza, in quei due o tre mesi di pamper, ok? Si crea la ricchezza, si crea liquidità. Io il mio wallet ha fatto quasi un 2x e qualcosa nell'ultimo anno, quindi ho quasi raddoppiato, quasi più che raddoppiato il mio wallet, da agosto dell'anno scorso grazie alle crypto, anche un po' nello stock market, però soprattutto grazie alle crypto ovviamente mi hanno fatto fare grossi numeri, quello come sempre. Quindi quello che vi dico è, cercate di avere una strategia, prepararvi al pump, perché ovviamente la preparazione è al pump e poi durante il pump sarà ancora più difficile dal dump, perché durante il pump entrerà in gioco il FOMO, entrerà in gioco la vostra psicologia che vi dice non vendere, ormai si va su, da qui si va su, cominceranno i video del tipo nuovo all time high, per questa coin, per questa coin, comincerai a cercare conferma per non vendere, per non prendere profitto. Cerca di affrontare questo momento, cerca di prendere profitto, cerca di ripiazzarti in cash, far girare i soldi, i nuovi progetti, se questi nuovi progetti pumpano prendi profitto e così via, così via. Comunque ragazzi rimanete forti, affronteremo insieme questo momento come abbiamo affrontato gli altri, passerà questo momento come sono passati gli altri, tornerà al mercato verde come è tornato in passato, ci metterà magari un po' di più, può essere, non lo so, però bitcoin ragazzi è 53, 55, ricordatevi l'anno scorso quant'era, adesso non mi ricordo però l'anno scorso sicuramente eravamo ancora sotto i 30, le all coin hanno fatto schifo perché ovviamente la prima lag, cioè il primo pump di bitcoin, le all coin non tendono a seguire, le all coin tendono a seguire più tardi, bitcoin, quindi bitcoin ancora non ha dato liquidità alle all coin, la dominance ancora non ha avuto un revosciamento, quindi l'all coin season non è mai iniziata veramente, c'è stata una mini all coin season l'anno scorso che poi è durata veramente poco, però non era nel coin season piena, quindi ragazzi continuiamo a seguire il mercato nei dettagli, continuiamo a seguire ovviamente bitcoin, tutte le analisi, guardate il video di ieri, guardate anche le live che facciamo, per il momento è tutto, fatemi sapere nei commenti come state mentalmente in questo momento, cosa state comprando, se siete fiduciosi, se non siete fiduciosi, ovviamente condividete il video e ci vediamo al prossimo.